Siamo da Quadrifoglio Sistemi di Arredo, loro sono un'azienda specializzata nell'arredamento per ufficio e propongono qui al salone un nuovo sistema dedicato agli Open Space. Intervistiamo l'area manager dell'azienda, come si chiama questo tipo di prodotto? Loro chiamiamo, è un phone boot, fa parte della linea X-Wall, che è il nostro prodotto per quanto riguarda la parete e le caratteristiche principali sono un grande abbattimento acusto. Entriamo, ci vediamo cosa avviene. Abbiamo detto che si chiamava cabina acustica, giusto? L'esigenza, a quanto pare, all'interno degli Open Space, ovviamente, vedete che già anche il suono migliora notevolmente, l'esigenza all'interno degli Open Space è pure di avere delle piccole aree di privacy. Certo, l'aspetto positivo dell'Open Space è che circolano le idee, l'aspetto negativo è che ne circolano troppe a volte e quindi ci si trova a creare un po' di confusione. Queste piccole aree all'interno degli Open Space permettono, per esempio, di fare una telefonata, di seguire un videocorso... O magari concentrarsi su un'idea o su un progetto. Concentrarsi su un'idea o anche scambiare due parole come stiamo facendo adesso al di fuori del caos di un'idea. Mi spiegavi prima che ovviamente l'illuminazione è comandata da un sensore che rileva la presenza e c'è anche la possibilità di avere una climatizzazione personalizzata all'interno. Esattamente, ci sono due livelli, un livello di climatizzazione vera e un livello invece semplicemente di ricircolo dell'aria esterna all'interno. Naturalmente lo spazio è piccolo, quindi già solo aprendo la porta si ha un completo ricambio dell'aria, però qui è stato calcolato in modo tale che ci sia l'esatto numero di metri cubi richiesto